Buonasera, siamo qui con Balossi Alessio dopo la partita di Cometa Bergamo vinta dal Bergamo per 11 a 6 Balossi è autore di 4 gol oggi cosa ne pensi della partita? questa partita è stata abbastanza bella molto giocata io autore di 4 reti ma anche i miei compagni abbiamo sbagliato un po' di cose che nell'allenamento in settimana si dovranno vedere quindi sei fiducioso sul proseguo del campionato dopo questa vittoria? sì, speriamo un saluto a Balossi Alessio ringrazio Bergamo e Ivan